allora io nei commenti del web di tutti quanti quando si tratta del discorso lotta a scudetto vedo troppa convinzione che lo scudetto sia già della juve facendo dei calcoli con lo scontro diretto allora perché lo vincerà il napoli quest'anno lo scudetto perché questa famigerata partita scudetto non è detto che la juve ha già tre punti non è detto il napoli può tranquillamente pareggiare come minimo a torino tranquillamente e perché il napoli fuori da tutto il napoli ha solo il campionato la juve c'ha il campionato ma lì in mezzo ci sono le partite della champions dove tra l'altro potrà anche passare con real madrid quindi potrebbe ancora continuare oltretutto io guardando il calendario guardando le partite vedo che le partite piuttosto ancora toccano alla juve e non al napoli il napoli non deve fare l'unico errore che non deve fare che non deve guardare la juve deve solo concentrarsi sulle proprie partite gioco una volta alla settimana e in ogni partita che va è sempre la favorita è sempre la favorita in ogni partita che andrà a giocarsi è sempre la favorita le uniche due partite ostiche milan juve la juve invece deve giocare ancora contro milan contro napoli contro inter contro roma e in più c'ha lì in mezzo le partite di champions poi voglio venire un attimo pure sul sull'aspetto del gioco che allegri abbia fatto delle grandi cose non si può negare ha fatto qualcosa di strepitoso negli ultimi anni ciò non toglie però che dobbiamo valutare in base a questa stagione in questa stagione allegri sta facendo giocare la juve di cacca la juve fino adesso è andata avanti di fortuna sia a londra persino i giocatori il calcio è strano perché noi abbiamo avuto due colpi e siamo ritornati in gioco si è fatto anche di maturo che la juve è una squadra matura è vero perché tottenham è immatura e non paragoniamo le partite con il real madrid perché lì ancora si tratta della fase dei gruppi le partite secche diversa e il tottenham non era esperienza non c'ha questa esperienza non c'ha questa maturità come ce l'ha la juve quindi la juve se era un'altra squadra col tottenham non doveva non doveva soffrire così ma è andata avanti di fortuna con la lazio straripeto ha vinto di fortuna perché se l'ha giocata pure gli ultimi 10 minuti per pareggiare tutta questa fortuna gli risivolgerà contro come ho già detto il napoli è vero che in un certo senso e la juve a più tre in un certo senso perché lo scontro diretto fino adesso è a favore della juve fino adesso se il napoli vince là però va a favore del napoli perché se vince sarà come minimo una zero quindi parità oppure due a uno e quindi allo scontro diretto a favore mettiamo però che non succede mettiamo che pareggiano perché non è scontato che la juve vincerà con napoli e ora vi spiego anche perché che andrò a parlare un po di questa famosa sfida a torino quindi il napoli ripeto calendario più facile e calendario solo di campionato la juve calendario più difficile e lì in mezzo le sfide contro il real madrid la juve quest'anno io do ragione a tutte e due sia quelli che difendono allegri perché lo difendono in generale ed hanno ragione ma do ragione a quelli che stanno criticando i juventini che stanno criticando la juve attualmente perché è criticabile quest'anno perché vede dovete guardare anche di questa ottica che tanti non lo guardano quando vinceva i scudetti prima la juve era nettamente favorita in italia io ho detto ultimi tempi nella serie a si sta un po migliorando quindi era normale che andava in tutto in in fondo in italia perché aveva lo squadrone quindi perché allegri quando al milan fece pure una stagione di cacca quando non già aveva più i campioni siccome avendo una rosa ampiamente migliore in italia ha avuto vita facile in europa è andato lontano questo è vero ha avuto anche dei sorteggi favorevoli comunque sia nel complesso allegri ha fatto bene come ho detto in italia vita facile in europa ha fatto bene però anche i sorteggi favorevoli però bisogna riconoscere che ha fatto bene comunque perché intanto l'ha saputo gestire tutto quanto quest'anno però non sta giocando bene la juve e ci sono state tante partite che io ho visto oppure che ho sentito alla radio e anche i radiocronisti anche io vedendo le partite e la juve sempre un po stanca intanto è riuscita sempre a vincerle perché il punto forte è stata la difesa questo è pure diciamo è un merito ok però ora le partite diventeranno difficili sempre più si avvicina alla fine e più sarà difficile perché dipenderà del napoli se il napoli sarà lì a vincere le sue partite che lo potrà fare tranquillamente la juve io non sono sicuro che li vincerà tutte queste partite quindi potrà trovarsi anche la situazione che si va alla partita scudetto che tutti credete che per me non credo che sia questa partita scudetto che tutta una volta sarà la juve a dover vincerla non si sa arrivando a torino che magari il napoli avrà già sorpassato la juve quindi sarà la juve a dover fare il gioco e quando la juve deve fare il gioco perché deve vincere il napoli potrà tranquillamente diciamo portare un risultato utile se il napoli andrà lì che dovrà vincere il napoli sarà tosta consiglio anche forse di giocarsela sul pareggio cioè di di accontentarsi anche magari con un pareggio perché la juve si difenderà sapendo che il pareggio gli sta bene e al napoli invece serve di vincere si difenderà e magari pure addirittura alla fine potrà anche vincere con questa tattica adattata perché all'andata a napoli ha vinto io lo dico sempre qua perché gli ha dato bene di andare subito in vantaggio ovviamente non posso dire che non ha meritato tutto sommato perché ha chiuso i spazi al napoli questo è ovvio però se non andava subito in vantaggio quindi non dico fortuna ma gli è andata diciamo bene che ha potuto subito giocarsi la sua tattica andando subito in vantaggio e rinchiudendosi quindi il napoli è vero che c'è i giocatori contati ma come ho detto io lascia perdere l'europa lì ha snobbato l'europa lì ora c'è solo il campionato ogni settimana sempre favorita tranne diciamo due partite toste juve e mila ovvio anche quando sarà favorita avrà vita dura però ce la può fare il napoli deve solo concentrarsi su di sé settimana una volta alla settimana la juve ripeto avversari più duri e lì in mezzo la champions le due partite con real e se va avanti e in più poi a parte queste partite avrà inter avrà roma avrà milan avrà il napoli e se il napoli va lì a torino con un vantaggio e pareggia non date scontato non date per scontato che la juve abbia vinto lo scudetto io non sarei così sicura a dire che la juve abbia vinto lo scudetto per me io vedo favorita il napoli addirittura sarri questa volta non sarà fesso tutti i giocatori non saranno fessi questa volta del napoli pausa venuta al momento giusto per il napoli quindi cari napoletani non vi fate scoraggiare e a quelli che già scrivono juve campione perché tanti commenti ho letto non ne sarei sicuro quelli che criticano e difendono allegri hanno tutte e due ragioni in un certo senso perché criticare allegri per quello che ha fatto assolutamente non ha fatto qualcosa di grande ma quest'anno è un po criticabile gli sta andando bene ma è stato fortuna anche però sta facendo tutto sommato perché dovete sapere anche con gli anni la rosa è andata sempre a migliorare e quindi quest'anno la juve non sta facendo in base alla rosa quindi capisco anche quelli che lo criticano non sta esprimendo a un bel gioco e b non sta facendo diciamo perché anche in champions nel gruppo è stata seconda soffrendo con delle squadre sport in lisbona olimpiaco spireos dietro al barcellona nettamente è stata e poi ha battuto il tottenham squadra inesperta che nel gruppo ha fatto soffrire il real madrid però le partite secche sono diverse quindi 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 attenzione ovviamente sono stati certuni hanno criticato troppo pesantamente perché dopo che tu vinci 12 partite ci sta di pareggiarla ci sta però il gioco espresso anche nella striscia vittoria e poi col paragio che è arrivato è stato quasi sempre sotto di quello che poteva fare la juve quindi questo è il mio ragionamento quindi ha fatto male al livello di gioco gli è andata bene che i singoli hanno sempre colpito la partita col chievo se non andavano in nove la partita con la lazio a culo la partita col genoa pure sofferto una zero e insomma lasciamo perdere cari napoletani non vi fate scoraggiare di quelli che si sentono sicuri nel dire che la juve vincerà quest'anno lo scudetto non è così quest'anno lo vincerà il napoli lo straripeto da inizio anno e ve lo riconfermo in questo video va bene ragazzi per questo video è tutto vi auguro una buona notte un caro saluto dal vostro leo